Per il noto artwork di Lodger, David Bowie collaborò con l'artista pop Derek Boscher. Il tramite per la collaborazione fu il fotografo Brian Duffy che aveva già collaborato con l'artista inglese, tra le altre cose per la copertina di Aladdin Sane e che realizzerà anche gli scatti per Scary Monsters. La foto per la front cover di Lodger su idea dello stesso Boscher fu scattata volutamente a bassa risoluzione impiegando una Polaroid SX-70. Lo scatto fu realizzato dall'alto nel febbraio del 1979 e la location era lo studio fotografico londinese dello stesso Brian Duffy. L'effetto doveva essere quello di un Bowie in caduta libera mentre guarda verso il basso. Per realizzare lo scatto fu costruito un tavolo supporto adatto ad accogliere Bowie e che scompariva completamente con il volume del suo corpo. Per lo scatto Bowie arrivò con la mano destra fasciata, bruciata per essersi versato addosso una bevanda calda, e Bowie decise che si doveva farla vedere nello scatto, intuizione che aumenta il senso tragico dello stesso. Per quanto riguarda il naso distorto, questo venne realizzato pensando alla forza della velocità che deforma il volto di un pilota aereo quando spezza la barriera del suono. Fu Bowie stesso a volere quell'effetto per visualizzare la velocità della caduta, il senso della velocità. L'effetto sembra quello di un vetro invisibile che comprime il naso di Bowie, ma la realizzazione fu completamente diversa e molto più complessa, perché furono utilizzati dei fili da pesca assicurati al volto di Bowie e tirati al momento giusto durante lo scatto per torcergli il naso. Lo scatto, come si diceva, fu realizzato con la bassa definizione, la bassa risoluzione di una Polaroid, e fu chiesto dallo stesso Bowie e Boscher concepì l'artwork nello stile di una cartolina, inserendo quattro lingue per il titolo, incluso il giapponese, l'indirizzo della RCA e il lettering della scritta Lodger, creato dallo stesso Boscher, quindi completamente inventato. La cartolina restituiva il senso di viaggio e di transitorietà che attraversa un po' tutto l'album. All'interno delle versioni in vinile che nel 1979 furono pubblicate in versione Gatefold, furono inseriti alcuni scatti poi esclusi dalla ristampa in CD della Ricodisc pubblicata nel 1991. Boscher ebbe carta bianca e il tema era quello del tempo. Le foto ritraggono il corpo di Che Guevara nel famoso scatto dell'autopsia, il lamento sul Cristo morto di Andrea Mantegna, la foto di un bambino, un cadavere in attesa di autopsia, il making stesso della foto di copertina dove si vede appunto Bowie sul tavolo supporto creato per lo scatto mentre Boscher e Duffy li sistemano i fili da pesca sul volto, e due orologi che secondo lo stesso Boscher simboleggiano il tempo e il ciclo della vita e della morte, in pratica la fine e l'inizio. Gli orologi poi ad un'attenta analisi sono l'Omega Speedmaster Professional e il Fightmaster, ma furono scelti del tutto casualmente, non c'era una passione particolare per questi orologi anche da parte di Bowie. Furono infatti scelti da un catalogo pubblicitario degli anni settanta. La numerazione che è rimasta su ciascuna delle due foto e che si vede molto bene sull'artwork lo conferma. Il lavandino sullo sfondo che occupa l'artwork interno dove è montato il collage di foto fu fotografato mentre veniva immesso un getto esterno d'acqua verso l'interno dello stesso in modo da creare un effettivo disorientamento prospettico, come se ci fosse un rovesciamento temporale possibile solo con le immagini in movimento. Anche in questo caso viene realizzato un effetto ottico in diretta come per i fili da pesca sul naso di Bowie per creare una distorsione e una percezione ottica diversa da quella consueta. Lo scatto che ritrae Bowie viene ripreso anche per l'inserto dei testi dove viene però sovrapposto ad alcune foto di viaggio che in qualche modo tracciano quel travelogue che è lo stesso lodger con riferimenti al Kenya, per esempio il brano Move On, e ad altri paesi. Le due versioni da collezione che prendiamo in esame sono due prime stampe realizzate rispettivamente in Inghilterra e in Germania. Quella inglese è la primissima stampa in vinile in assoluto ed è quella di maggior valore. Si distingue dalle altre perché l'artwork principale è realizzato con un rivestimento laminato lucido molto bello. Oltre a questo, per distinguerlo dalle altre stampe, il logo RCA in alto riporta una serie di dati sulla fabbricazione assenti nelle altre edizioni. La scritta ZZ presente nelle copie RCA inglesi è un codice che è stato poi sostituito dai più frequenti codici a barre. Altro aspetto che distingue la prima stampa inglese dalle altre è l'inserto dei testi. Nelle copie britanniche è un vero e proprio inserto fronte-retro che come vedremo nelle altre invece è una inner sleeve, ovvero una busta che contiene il disco. In questo caso invece è un inserto indipendente dalla busta che è quella bianca appunto. Il codice della prima stampa, riportato anche sull'etichetta RCA Victor arancione del vinile, è PL13254, tra parentesi AQL13254. Questa distinzione è molto importante per distinguere se si tratta di una copia inglese oppure di una copia canadese, in alcuni casi, oppure appunto tedesca. Ma non è tutto perché un'ennesima prova per confermare che la copia in vostro possesso potrebbe effettivamente essere la prima stampa inglese è la matrice del vinile, ovvero quel codice stampato sulla cosiddetta deadwalks, ovvero quella parte del vinile che non è incisa con informazioni sonore alla fine di ogni disco. Sui bordi, in trasparenza, si può vedere un numero di matrice stampato a mano. Da questo numero e solo da questo si può risalire al master in vostro possesso e se questo si riferisce appunto alle prime stampe di un disco. Nel caso di Lodger, oltre ai due codici riportati anche sulla copertina, troviamo la scritta Sterling che si riferisce allo studio di New York dove è stato masterizzato il disco. E soprattutto c'è una frase divisa tra il lato A e il lato B del disco che è incredibile e che c'è solo nelle stampe inglesi e che è No sense is better than known at all. Non c'è senso migliore che nessun senso. Vi facciamo vedere la scritta del lato A con una boroscope camera, ecco, e successivamente poi una foto che abbiamo contrastato molto in fase di post produzione per poterla visualizzare al meglio. Ecco l'esplorazione con la camera boroscopica dove leggiamo appunto No sense is better, quella appunto la scritta del lato A. Quella del lato B è molto più piccola, cioè quella dove c'è scritto than known at all, è molto più piccola quindi abbiamo preferito scattare una foto. Ecco, in successione le foto che abbiamo scattato, Sterling che sarebbe lo studio di mastering, No sense is better ovvero la scritta che troviamo sul lato A e successivamente quella che troviamo sul lato B che è than known at all. Infine il codice visibile sul lato A e sul lato B identico a quello stampato sulla copertina. La prima stampa tedesca invece presenta come potete vedere un bollino sotto il logo RCA che indica la presenza del singolo Boys Keep Swinging. Il materiale del Gatefold non è laminato, lucido come per la prima stampa inglese e soprattutto come tutte le edizioni stampate in Germania del catalogo Bui e non solo, troviamo questa scritta che è una sorta di bollino di qualità delle stampe in vinile tedesche. Il resto dell'artwork come vedete è identico davanti e dietro e anche per quanto riguarda la parte interna del Gatefold con tutto il collage di immagini scattate da Brian Duffy che abbiamo già analizzato dettagliatamente. Diverso anche l'inserto che noi abbiamo separato aggiungendo una busta bianca nuova per proteggere il vinile e appunto per non strappare la busta con i testi ma che non è appunto un inserto ma una vera e propria busta come potete appunto vedere che era predisposta per accogliere il disco. Fronte e retro anche questa e con lo stesso layout sostanzialmente dell'inserto inglese. Le label del vinile sono RCA Victor Arancioni ma con alcune differenze grafiche rispetto alla prima stampa inglese. Non solo il codice di riferimento che in questo caso è solamente PL13254 e quindi non AQL1 eccetera insomma ma anche la tracklist che è stampata con un layout più conciso e meno esteso. Per esempio i nomi degli autori vi sono riportati solo per cognome mentre nella stampa inglese sono riportati per esteso sotto ogni brano. Per quanto riguarda il costo di mercato ci siamo attenuti a quello che è possibile trovare sul marketplace di Discogs e su ebay e facendo una media una stampa tedesca in ottime condizioni di lodger prima stampa tedesca 1979 è possibile ottenerla per circa 25 euro. Mentre la più rara stampa inglese prima stampa in assoluto 1979 RCA inglese in condizioni ottime si trova tra le 50 e le 60 euro. Grazie a tutti!